Oggi vi parlo di cose che i fotografi dilettanti raramente arrivano a imparare a usare sulla propria macchina fotografica, il che comporta che molte funzioni rimangono a loro precluse e basterebbe un minimo sforzo in più per andare a migliorare di parecchio le nostre fotografie o anche semplicemente il modo in cui le realizziamo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia e oggi vado a raccontarvi quelle che secondo me sono le funzioni che i dilettanti tendono a non usare mai sulle loro macchine fotografiche. Ovviamente questo che cosa comporta? Da un lato avremo delle foto magari un pochettino carenti sotto certi punti di vista ma soprattutto i dilettanti vanno a precludersi delle comodità in fase sia di scatto che di post-produzione. Di post-produzione ho parlato spesso, infatti vi ricordo che c'è un'intera playlist dedicata proprio a questo sul mio canale, vi consiglio anche di iscrivervi perché continueranno a uscire contenuti quindi se volete rimanere aggiornati il modo migliore è cliccare il bottone qui sotto e attivare anche la campanella. Ma andiamo con ordine, ovviamente al primo posto sta la modalità manuale. Ebbene sì ragazzi, anche nel 2023 la maggior parte dei dilettanti, parlo proprio dei dilettanti quelli che hanno appena cominciato o comunque che non hanno nessun interesse a approfondire, utilizzano quasi esclusivamente le modalità automatiche sulla macchina fotografica. Ora, da un certo punto di vista questo va bene perché se sei un dilettante totale e soprattutto se non ti interessa imparare, ci sta. La modalità completamente automatica ti mette in condizione di scattare lo stesso anche se non hai la minima voglia di capire cosa sta succedendo dentro la macchina, cosa che d'altronde capisco perché io non so che cosa sta succedendo dentro nel motore della mia automobile mentre la guido. Non lo so, quello che mi interessa è che mi porti dal punto A al punto B, quindi io lo capisco che non tutti siano interessati a capire questa cosa. C'è una differenza sottile però. Io posso guidare benissimo e posso essere un super mega pilota anche senza capire esattamente cosa sta succedendo dentro nel mio motore, ma difficilmente miglioro come fotografo se non mi rendo conto di cosa succede dentro nella mia macchina fotografica e in particolare per quanto riguarda le modalità di esposizione. La modalità manuale mi permette di esporre come voglio io. La macchina fotografica lo farà sempre in base a dei preset, delle fotografie che gli sono state messe in memoria, per cui la macchina cercherà di riconoscere le scene che stiamo fotografando in base a una banca dati che gli è stata caricata e in base a quello e ai colori e alla luce presente cercherà di tirare a indovinare come dovrebbe essere la foto, ma raramente sarà perfettamente corretta. La maggior parte delle volte sarà molto buona ma non perfetta e in certi casi perdiamo la possibilità di mettere qualcosa di nostro nella foto, di renderla nostra mettendoci dentro un qualcosa che ci rappresenti anche a livello di esposizione. Questo è un peccato. Sempre parlando di esposizione parliamo anche dei modi di lettura, come già visto in diversi video che adesso vi linko in card, esiste la possibilità di dire alla nostra fotocamera se vogliamo dare prevalenza a quello che sta nel centro, se vogliamo dare prevalenza a tutto il fotogramma, oppure se vogliamo dare prevalenza solamente a uno spot molto piccolo nel centro. Queste modalità di lettura servono in contesti diversi. Sto fotografando la luna in un cielo notturno, per esempio, utilizzo il metodo di lettura spot perché così riesco a esporre correttamente solo la luna che è molto piccola e evito di far leggere alla macchina tutto il nero del cielo che c'è intorno, per esempio. Quindi esistono metodi diversi per dire alla macchina che tipo di foto stiamo facendo. Mi rendo conto che è un po' astruso. Probabilmente nei prossimi anni questi metodi di lettura verranno rimpiazzati semplicemente dalle scene, per cui diremo alla nostra macchina sto facendo un ritratto, sto fotografando il mio cane, sto fotografando un cielo nuvoloso, sto fotografando uno still life e la macchina farà tutto da sola. È inevitabile che finisca così, però per adesso abbiamo ancora i metodi di lettura che servivano ai professionisti. Visto che si va sempre più verso una direzione amatoriale, la liberalizzazione per tutti, credo che questa funzione prima o poi scomparirà. Però allo stadio attuale delle cose rimane una delle funzioni che i dilettanti utilizzano di meno in assoluto. Proprio come il bilanciamento del bianco. Ebbene sì, parliamo un attimo di questo bistrattato bilanciamento del bianco. Di cosa si tratta? Fondamentalmente abbiamo direttamente in camera la possibilità di decidere che temperatura colore vogliamo. La temperatura colore che si misura in gradi Kelvin serve a identificare il punto di bianco, per cui all'interno della nostra scena noi avremo il bianco, quello vero, e poi avremo qualcosa che va verso il giallo e qualcosa che va verso l'azzurro. Ora, nel mio caso, io sto utilizzando una luce principale che ha una temperatura colore di 5600 Kelvin. Quindi è una luce diurna sostanzialmente. È praticamente a metà. La luce diurna è quella che normalmente identifichiamo come bianco, anche se poi non è quasi mai esattamente così. Le luci che ho sullo sfondo, invece che mi illuminano la silhouette, sono una azzurra e una gialla. Ora, in questo caso io ho detto alla mia fotocamera che la luce principale è da 5600 Kelvin e quindi il bilanciamento del bianco è corretto direttamente in macchina, perché io ho detto alla mia macchina guarda che la luce principale che illumina la maggior parte della scena è di quel colore lì e quindi la macchina va a tararsi esattamente su quel bilanciamento e l'immagine è corretta. Se io avessi sbagliato, se io avessi usato una temperatura colore sbagliata potremmo avere un'immagine più virata verso l'azzurro o più virata verso il giallo. Ora, il problema qual è? La maggior parte dei dilettanti utilizzano questo parametro in automatico. Questo significa che la nostra macchina tirerà a indovinare e per esempio in questo caso, se riuscite a vedere, probabilmente lo sfondo non è particolarmente freddo e nemmeno io ho dei colori abbastanza caldi addosso, quindi probabilmente la macchina in automatico tenderebbe a introdurre più blu del necessario per andare a compensare questi colori non freddi che legge nell'immagine. Questo è un peccato perché comunque si può avvicinarsi molto a quella che è la resa cromatica esatta della scena che abbiamo davanti semplicemente impostando una delle modalità. Tutte le macchine fotografiche hanno delle scene preimpostate, quindi luce diurna, luce artificiale, luce al tungsteno, luce neon. Sono tutte funzioni base che esistono già all'interno della nostra fotocamera. Ovviamente c'è anche la possibilità di impostare i gradi Kelvin in automatico ed è quello che vi consiglierei io perché le scene preimpostate hanno dei valori fissi, mentre nel momento in cui gli diciamo voglio 3300 Kelvin, quello è. Quindi abbiamo una scena che richiede quel bilanciamento del bianco, glielo andiamo a dire e quello è il nostro bilanciamento fino a quando non andiamo a modificarlo. Questa è una cosa che raramente l'amatore fa e evita di farla anche per un buon motivo volendo perché questa è una cosa che si può fare in post produzione senza caduta qualitativa se stiamo scattando in RAW. Ma attenzione, scattare in RAW è un'altra cosa che i dilettanti spesso e volentieri non fanno. Perché? Perché scattare in RAW significa trovarsi con un file che non puoi condividere sui social a meno di non averlo prima lavorato. Un RAW non si può prendere e pubblicare così intanto perché la maggior parte dei social te lo rifiutano, non è un file caricabile. Bisogna esportarlo in un altro formato che sia JPEG, PNG o quello che vogliamo, ma il RAW, il CR2, il NEF, quei formati lì non si possono caricare sui social perché i social non riconoscono quel formato, quindi dobbiamo esportarlo in JPEG. Inoltre il formato RAW raramente è bello da vedere. È un formato grezzo, bruttino da vedere, con i colori spenti, tutto da lavorare. Quindi dobbiamo lavorarlo prima di pubblicarlo. Questo significa che spesso e volentieri l'amatore non ha voglia di farsi questa trafila e preferisce scattare in JPEG e pubblicarlo direttamente, con la conseguenza che abbiamo una processazione già in camera, perché quando si scatta JPEG viene processata l'immagine già in camera e quindi perdiamo la possibilità di personalizzarla a nostro piacimento. Possiamo mettere sui filtri di Instagram dopo, ma la caduta qualitativa è molto maggiore a questo punto. Un'altra cosa che sapete bene mi è molto cara è che i dilettanti totali non utilizzano, è il bracketing. Noi abbiamo un'esposizione base, quindi fate finta, quella che state vedendo adesso è l'esposizione base ed è lo zero fondamentalmente. Sul nostro esposimetro è lo zero. Noi possiamo variarla questa esposizione. Se io vario l'esposizione dallo zero mi sposto su di uno stop o giù di uno stop, per esempio. In questo modo avrei un'immagine troppo chiara o troppo scura. Nel momento in cui facciamo un bracketing per realizzare una fotografia HDR, fondamentalmente stiamo dicendo alla nostra macchina di scattare una foto con l'esposizione a zero e poi una seconda foto con l'esposizione a uno o a due e un'altra foto con l'esposizione a meno uno o a meno due o a più tre o a meno tre se la nostra macchina lo consente. È una cosa che possiamo fare per aumentare la gamma dinamica del nostro sensore. Il sensore ha una gamma dinamica che viene definita in fase di costruzione dai progettisti della casa, quindi magari la nostra fotocamera ha dieci stop di gamma dinamica, undici stop di gamma dinamica. Adesso i modelli più recenti e più performanti arrivano a 15 stop di gamma dinamica che è tanto, però se noi ne vogliamo ancora di più perché abbiamo una scena fortemente contrastata, quindi magari abbiamo una scena in un interno però con una finestra con fuori il sole e vogliamo che si veda correttamente sia l'interno che è scarsamente illuminato rispetto al fuori sia il fuori che è molto più brillante. Se facciamo una foto sola, se esponiamo la stanza, la finestra viene tutta bianca. Se esponiamo la finestra, la finestra viene giusta col cielo azzurro fuori e la stanza viene tutta nera. Se noi facciamo queste tre foto, quindi una con l'esposizione a zero, dove più o meno la stanza verrà comunque un po' scura e la finestra verrà comunque un po' chiara, però poi ci spostiamo dallo zero e facciamo una foto troppo chiara e una foto troppo scura. In questo modo, unendo quelle tre foto, in post ovviamente, riusciamo a ottenere un'immagine più ricca che mantiene i dettagli in tutte le aree. È una cosa che io faccio tantissimo quando faccio foto di interni, vi lascio in descrizione qualche video che potete andarvi a cliccare per capire meglio questo funzionamento perché è molto importante e gli amatori non lo fanno quasi mai, andandoci a perdere perché è una cosa molto bella che arricchisce parecchio le nostre immagini. E arriviamo alle fasi finali parlando di autofocus. Ho capito, rispondendo ad alcuni commenti, alcune domande che mi avete fatto, che comunque l'autofocus è una delle cose che tutti amatori e professionisti reputano tra le più importanti e per un ottimo motivo, se io non riesco a mettere a fuoco, non c'è macchina che tenga, posso avere la fotocamera più stratosferica dell'universo, ma se non riesco a mettere a fuoco dove voglio io è completamente inutile. Per questo motivo il mercato si è evoluto e si sta evolvendo verso sistemi di messa a fuoco sempre più performanti che fondamentalmente mettono a fuoco in automatico dove vogliamo noi, se l'abbiamo impostato correttamente e quindi siamo in grado sugli ultimi modelli di dire che vogliamo il focus sull'occhio. Per esempio io sulla mia fotocamera ho impostato il focus sull'occhio e quindi la messa a fuoco funziona automaticamente mi va a beccare uno dei due occhi in automatico e io non devo più fare fatica a impostarla o a trafficare perché fa tutto da sola. Esistono dei sistemi di messa a fuoco molto precisi che semplicemente con il tocco del display vanno a modificare il nostro focus e a darci dei risultati molto molto piacevoli ed è molto facile lavorare così. Mi rendo proprio conto che utilizzare un sistema di messa a fuoco moderno rispetto a quelli di una volta sia un vantaggio gigantesco soprattutto per chi ha già usato quelli vecchi e quindi ne conosce le difficoltà, i pregi e i difetti. Arrivare su un sistema moderno che è più facile da usare, più adatto ai dilettanti è un grandissimo vantaggio. Tuttavia la maggior parte dei dilettanti non modifica le impostazioni di messa a fuoco e quindi il sistema di messa a fuoco fa quello che può però noi dobbiamo agevolarlo nel dirgli magari sto facendo ritratto oppure nel dirgli sto facendo paesaggio oppure nel dirgli sto facendo sport. Esistono delle opzioni che servono proprio a questo nei menu di messa fuoco a seconda del modello possono essere completamente diversi. In alcuni modelli molto progrediti abbiamo addirittura la possibilità di dire alla fotocamera sto facendo sport e sto fotografando automobili oppure sto facendo sport e sto fotografando moto e la macchina capisce la differenza e andrà a beccare il veicolo giusto in base a quello che gli abbiamo selezionato. Ovviamente se un amatore non seleziona questa funzione la macchina funzionerà lo stesso perché in automatico magari riconosce lo stesso che ci sono dei veicoli però potevamo essere più precisi nel dirgli che cosa volevamo mettere a fuoco e avremmo avuto una prestazione in qualche modo migliore. E siamo arrivati alla fine l'ultima cosa che a mio parere i dilettanti non fanno mai o quasi mai è impostare i pulsanti personalizzati. Dovete sapere che la maggior parte delle fotocamere in commercio hanno una serie di bottoni che sono personalizzabili ora il pulsante play per riguardare le immagini che abbiamo già scattato quello non è personalizzabile quello serve a guardare le immagini punto e basta il bottone cestino della spazzatura quello non è personalizzabile serve a buttare via un'immagine che abbiamo sbagliato a scattare non vogliamo più però esistono tantissimi altri bottoni che sono personalizzabili e come li personalizziamo dipende perché devono rispondere a un'esigenza quindi io non vi posso dire quel bottone fate questa cosa perché sarebbe sciocchino da parte mia vi sto dicendo una cosa che magari serve a me magari non serve a voi vi faccio un esempio su tutti io sto utilizzando Canon EOS R7 per registrare questi contenuti sul retro della mia fotocamera ho dei bottoni personalizzabili a uno di questi bottoni ho impostato la funzione zebra quando io premo quel bottone attivo e disattivo la zebra perché perché io uso la zebra e mi serve quando sto esponendo però poi non mi serve più quindi non la voglio sempre la voglio all'inizio quando sto esponendo e poi magari la spengo per cui avendo impostato quel bottone per attivare e disattivare la zebra io semplicemente con un tocco l'accendo e la spengo senza bisogno di entrare dentro nei menu e andare a cercare zebra impostazioni off e poi uscire ricominciare ho impostato un bottone che mi velocizza il flusso di lavoro a questo serve personalizzare i bottoni e personalizzare i menu anche perché noi possiamo crearci un menu personalizzato dove racchiudiamo le funzioni che usiamo più spesso e in questo modo senza dover andare tutte le volte a cercare all'interno di tutti i menu perché magari c'è una roba all'inizio e una roba alla fine del menu la dobbiamo toccare spesso quelle due opzioni ce le mettiamo in un menu personalizzato e in questo modo ce le abbiamo a portata di mano più rapidamente quando le dobbiamo cambiare ve ne dico una su tutte il bracketing quando io faccio bracketing io devo impostare due cose sempre due cose devo decidere di quanti stop deve essere il mio bracketing quindi magari deve essere di uno stop di due stop di tre stop ho bisogno di quella ghiera a portata di mano e quindi me la metto in un menu personalizzato subito sotto mi metto il numero di scatti perché magari voglio fare tre scatti ma magari ne voglio fare cinque o sette a seconda della scena quelle due cose che sono in due menu diversi e lontani fra loro io le raggruppo e le metto in un menu custom che mi creo io che mi metto alla fine di tutti quanti i menu e quindi quando devo fare quella roba lì vado sul mio menu e ho quelle due opzioni subito a portata di mano così le cambio faccio quello che devo fare e poi le rimetto come erano di default questa è l'ennesima cosa che gli amatori dilettanti di solito non fanno perché non sanno nemmeno che si può fare ed è una cosa che va ad agevolarli molto nei loro procedimenti e nel loro flusso di lavoro così come anche le funzioni di esposizione custom sulle rotelle dei metodi di esposizione della maggior parte delle fotocamere questo è un piccolo bonus che vi metto lì e su alcuni modelli soprattutto quelli progrediti esistono le funzioni c1 c2 sarebbe custom 1 custom 2 magari su alcuni modelli non si chiama c si chiama in un altro modo però il punto è che abbiamo dei preset che possiamo impostare e vi faccio un esempio quando io vado a scattare in studio con luce flash tendenzialmente io scatto a un centesimo di secondo con iso 100 f8 io potrei mettermi c1 con questi parametri già impostati così quando entro in studio metto c1 e ho già il mio parametro di base però magari prima stavo facendo paesaggio quindi ho lasciato su manuale ho lasciato le mie impostazioni di paesaggio metto c1 e ho le mie impostazioni da studio poi magari mi può capitare con la stessa fotocamera di venire qui in studio di dover registrare un video e quindi su c2 potrei salvarmi le impostazioni che uso per registrare video che sono iso 800 f5 e un cinquantesimo di secondo potrei avere su c1 e c2 queste impostazioni già salvate in questa maniera quando passo da un contesto all'altro non devo rimpostare tutta la macchina vado semplicemente su funzione custom 1 funzione custom 2 e ho già la mia macchina impostata per quello che devo fare queste sono tutte cose molto molto utili che molti dilettanti spero avranno appreso guardando questo video e per questo motivo vi consiglio di iscrivervi a questo canale perché ne arriveranno comunque delle altre anzi fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate se ce ne sono altre su cui volete approfondimenti o alcune che ho dimenticato fatemelo sapere qui sotto ci vediamo nei commenti dove io spesso e volentieri rispondo con dei video verticali quindi a maggior ragione se vi iscrivete al canale non rischiate di perdervi le risposte vi ringrazio di aver passato un po del vostro tempo con me e io vi do appuntamento al prossimo video